Gli aggettivi della prima classe Allora Vediamo questo un po' il sommario della nostra lezione Iniziamo quindi un attimo a ripassare Ripassiamo l'italiano Adesso dobbiamo avere le idee ben chiare sugli aggettivi L'aggettivo è una parte variabile del discorso Che ha la funzione di precisare il significato di un sostantivo Col quale concorda nel genere e nel numero In base al significato Gli aggettivi si dividono in qualificativi e determinativi I qualificativi, come dice la stessa parola Definiscono le qualità, le caratteristiche Le proprietà del sostantivo a cui si riferiscono Esempio, bello, musicale, protettivo, eccetera I determinativi definiscono in modo più preciso Altre qualità del nome Cioè, possono essere i possessivi Oggi vedremo i possessivi, per esempio Ma possono essere anche i numerali Indefiniti, dimostrativi, determinativi Interrogativi ed esclamativi Oggi parleremo dei possessivi E di pochi altri aggettivi determinativi Il discorso di oggi riguarderà soprattutto Quindi gli aggettivi qualificativi Le due classi degli aggettivi In latino ci sono due classi di aggettivi Gli aggettivi si flettono Quindi si declinano Come i sostantivi A seconda del modello di declinazione che seguono Si dividono in due classi Quindi i sostantivi sono divisi in cinque declinazioni Mentre gli aggettivi in solamente due classi Gli aggettivi della prima classe si flettono come i nomi della prima Della seconda declinazione Cioè si declinano come rosa rose E come lupus Puer Eccetera eccetera Puer Gli aggettivi della seconda classe si flettono come i nomi della terza declinazione Cioè si declinano come i nomi della terza declinazione Il prossimo argomento che faremo sarà la terza declinazione dei nomi Quando avremo fatto la terza declinazione dei nomi Potremo fare gli aggettivi della seconda classe La quarta e la quinta declinazione dei nomi non ci servono Perché non c'è nessun aggettivo che si declina come un nome della quarta o della quinta Una volta che avremo imparato anche la terza declinazione Potremo declinare qualsiasi tipo di aggettivo La prima classe comprende aggettivi a tre uscite Una per ciascuno dei tre generi Un'uscita per il maschile Una per il femminile e una per il neutro Che seguono? Ecco le tre uscite Al maschile la seconda declinazione Possono essere inus come lupus Possono essere iner con la e che rimane in tutta quanta la declinazione Come puer pueri, socer, soceri Possono essere iner con la e che cade e rimane solo a nominativo Come ageragri, magister, magistri, ecc Al femminile seguono la prima declinazione Come rosa rose Al neutro la seconda declinazione Come bellum belli che vuol dire la guerra Ok Allora iniziamo a studiare gli aggettivi in us Qui per esempio avete bonus Tutta la declinazione dell'aggettivo in us Bonus, bona, bonus Si declina così Prima tutto il nominativo singolare Sia il maschile, sia il femminile, sia il neutro Poi tutto il genitivo singolare Sia il maschile, sia il femminile, sia il neutro E via discorrendo Bonus, bona, bonum Boni, bona, boni Bono, bona, bono Bonum, bona, bonum Bone, bona, bonum C'è un errore C'è un errore perché ovviamente questo Bone, bona, bonum è vocativo C'è da aggiungere il lablativo Che è Bono, bona, bono Se volete interrompiamo e correggiamo Abbiamo sistemato adesso la declinazione dell'aggettivo Che del resto voi trovate alla pagina 107 Correttamente sul vostro libro Cioè mancava insomma il vocativo Che è bone, bona, bonum E l'ablativo che è bono, bona, bono Plurale Boni, bone, bona Bonorum, bonarum, bonorum Bonis, bonis, bonis Bonus, bonas, bona Boni, bone, bona Bonis, bonis, bonis Ecco Che cosa possiamo notare? E cosa dobbiamo notare? Che Seguono questo modello Il participio perfetto E il participio futuro Dei verbi di tutte le coniugazioni Quindi anche laudatus, laudato Si declina in questo modo Laudatus, laudata, laudatum Laudati, laudate, laudata Laudati Laudato, laudate, laudato Laudatum, laudatam, laudatum Laudate Laudata, laudatum Laudato, laudata, laudato Plurale Laudati, laudate, laudata laudatorum, laudatarum, laudatorum, laudatis, 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 laudatos, laudatas, laudata, laudati, laudate, laudata, laudatis, 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 laudatis. Anche laudaturus, che significa che loderà, si declina nello stesso identico modo. Qui avete per esempio un esercizio. Per esempio altum. Che cos'è altum? Dovete dirmi che cos'è e in quale punto dobbiamo metterlo. E' un singolare. Non è genitivo ma è... Ecco. Può essere nominativo neutro, giusto, oppure può essere accusativo anche maschile. Accusativo anche maschile. O vocativo neutro. Benissimo. Alto. Cos'è alto? Alto può essere dativo e ablativo sia maschile che neutro. Benissimo. Alta. Che cos'è alta? Nominativo singolare femminile. Ablativo singolare femminile. Anche vocativo singolare femminile. E anche plurale, neutro. Nominativo, accusativo, evocativo, neutro, plurale. Benissimo. Attenzione che alti può essere sia il genitivo singolare maschile o neutro, sia il nominativo e il vocativo plurale maschile. Altorum può essere sia genitivo plurale maschile, sia genitivo plurale neutro. No. Alta, l'abbiamo già visto prima. Altis è o dativo o ablativo di tutti e tre i generi. Maschile, femminile e neutro. Poi. Basta. Gli altri li abbiamo già detti. Adesso, giriamo pagina. Vediamo gli aggettivi che sono in R con la E che rimane lungo tutto il corso della declinazione. È il caso. Ecco, quindi questi aggettivi seguono la declinazione di puer pueri. E poi invece ci sono gli aggettivi in R con la E che cade, che si trova solamente al nominativo maschile singolare. Se sono R, era, erum e la E rimane. È il caso, per esempio, di tenere. Tener, tenera, tenerum. Teneri, tenere, teneri. Tenero, tenere, tenero. Tenerum, teneram, tenerum. Tenera, tenera, tenera. Attenzione. Mentre quelli in US hanno il vocativo maschile in E, quelli in R hanno il vocativo maschile uguale al nominativo. Tener, tenera, tenero. Tenero, tenera, tenero. Plurale, teneri, tenere, tenera. Tenerorum, tenerarum, tenerorum. Teneris, teneris, teneris. Teneros, teneras, tenera. Teneri, tenere, tenera. Teneris, teneris, teneris. Abbiamo già sottolineato l'unica differenza con gli aggettivi in us è proprio nel vocativo maschile singolare. Adesso vediamo un aggettivo in R con la E che cade e che si trova solamente, lo vedete quella E verde? Si trova solamente nel nominativo maschile singolare e basta. Poi cade sempre, ad esempio ammalato, si diceva così in latino, eger, egra, egrum, egr, 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 anche il vocativo singolare come il nominativo è in R ed è l'unico caso insieme al nominativo che ha la E tematica, diciamo così, perché in tutti gli altri casi, generi, eccetera, la E cade. Eger, egr, 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 e Ad esempio, che cosa può essere? Rubri può essere genitivo singolare sia maschile sia neutro. Poi può essere nominativo e vocativo plurale maschile e basta. Rubrorum può essere genitivo plurale sia maschile sia neutro. Ruber, nominativo e vocativo maschile singolare. Rubros può essere solamente accusativo maschile plurale. Rubris, dativo e ablativo sia maschile sia femminile sia neutro. Rubrum può essere neutro, nominativo singolare, anche vocativo singolare, anche accusativo singolare. Ma l'accusativo singolare può essere non solo neutro, ma anche maschile. Gli altri li abbiamo visti, rubri, rubris, rubro, ruber. Attenzione, adesso andiamo alla pagina 110. Nella pagina 110 troviamo gli aggettivi possessivi, che poi in realtà vedremo possono essere anche pronomi possessivi. Come in italiano i possessivi possono essere aggettivi e pronomi. Anche in latino i possessivi possono essere anche pronomi. Si declinano come gli aggettivi della prima classe. Meus, mea, meum. E va avanti. Mei, 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 eccetera, eccetera. Attenzione, come fa il vocativo maschile? Fa mi. L'abbiamo già studiato, è una particolarità. O mio caro, o mio buono, amico, mii, buone, amici, mii, tu puoque, brutte, figli, mii, anche tu, brutto, figlio mio. Ok? Quella è l'eccezione. Tutto il resto, dall'alcrizione di Meus, segue la prima classe degli aggettivi. Tus, segue la prima classe degli aggettivi senza nessuna eccezione. Vocativo regolare, insomma. Sus, di terza persona. Il sus, di terza persona, segue la declinazione degli aggettivi senza nessuna eccezione. Noster e Wester, declinazione degli aggettivi in R, con la E che cade. Quindi si declinerà. Noster, nostra, nostrum. Nostri, nostre, nostri. Nostro, nostro, nostro. Nostrum, nostram, nostrum. Noster, perché ricordate che quelli in R hanno il vocativo maschile uguale al nominativo. Noster, nostra, nostrum. Nostra, nostra, nostro, l'ablativo, plurale. Nostri, nostra, nostra. Nostrorum, nostrarum, nostrorum. Poi c'è nostris, nostris, nostris. Nostros, nostras, nostra. Nostri, nostre, nostra. Nostris, nostris, nostris. E lo stesso Wester. Come vedete, seguono il modello di Eger, Egra, Egrum. Adesso andiamo alla pagina 112. Allora, ci sono degli aggettivi pronominali che dobbiamo studiare adesso perché hanno una declinazione particolare. Alla prima classe, infatti, appartengono anche dieci aggettivi pronominali che sono quelli che trovate elencati nella pagina 112. Alius, alia, aliud, alter, altera, alterum, nullus, nulla, nullum, neuter, neutra, neutrum, solus, sola, solum, totus, tota, totum, ullus, sulla, ullum, unus, una, unum, uter, utra, utrum, uter, cu, trac, utrunque. Allora, si declinano come gli aggettivi inus, tuttavia hanno una particolarità. Ci sono dei casi, che sono il genitivo, il dativo singolare, che si declinano in un modo diverso. Pertanto lo possiamo chiamare anche declinazione pronominale perché è tipica di questi dieci aggettivi pronominali. Tutti i genitivi sono in ius, con la i lunga, quindi i accentata, perché è la penultima. Quando è lunga la quantità della penultima, l'accento rimane sulla penultima. E i, al dativo, di tutti i generi. Quindi andiamo a declinare uno di questi aggettivi. Uno lo trovate sul vostro libro, noi ne decliniamo un altro, tanto sono uguali. Ullus, ulla, ullum, ullius, ullius, ullius. Ulli, ulli, ulli. Poi va avanti regolare. Ullum, ulla, ullum. Ullum, ulle, ulla, ullum. Ullo, ulla, ullo. E tutto il plurale è regolare. Ulli, ulle, ulla. Ullorum, ullarum, ullorum. Ullis, ullis, ullis. Ullo, sulla, sulla. Ulli, ulle, ulla. Ullis, ullis, ullis. Ma ricordate il genitivo e il dativo che sono particolari. Perché hanno questa desinenza. Altri video didattici su a tuttascuola.it Grazie per la visione.